...a Gelsenkirchen con lo Schalke, uno dei due volti nuovi del centrocampo della Juve, l'altro è Artur, arrivato nello scambio con Piani, ci dobbiamo dare velocità al gioco coinvolgendo Quadrado, arriva Quadrado... ...approccio iniziale della sua squadra, la ricerca di certi movimenti, cosa che stanno studiando... ...la palla di Chiellini per Rabiot, intercettata da Schiavi che dalla distanza prova a sorprendere Cesni, soluzione infelice quella di Schiavi, ma qualche errore di troppo... ...e l'ottimo finale con la Juve, ha permesso di tornare in nazionale... ...c'è Kuluzeski che apre d'esterno per Quadrado, attenzione a Ramsey che attacca la porta, poi Ronaldo, calcia lui, trova l'opposizione di Bove, calcio d'angolo... ...la palla finisce sul primo, viene allontanata, poi Ramsey rigioca dentro, riceve Kuluzeski, adesso Quadrado, riceve poche calciare, è defilato ma... ...ci prova, Lanni in due tempi, a neutralizzare la conclusione di Juan Quadrado, primo tiro nello specchio della Juve, arriva dopo una quarto d'ora di gioco... ...e Danilo dentro l'area di rigore, McKennie cerca il movimento di Ramsey... ...Rabiot, Ronaldo, riceve scarica all'1-2 con Kuluzeski, il gol di Ronaldo dopo una splendida, splendida combinazione con il nuovo compagno d'attacco Kuluzeski... ...e Cristiano Ronaldo non perde mai l'abitudine, dopo i due gol in nazionale, firma il gol dell'1-0 di questa amichevole con il Novara dopo 20 minuti di gioco... ...a rivedere l'azione della Juve, Quadrado, Rabiot, Ronaldo, 1-2, palla di ritorno è perfetta... ...il Novara dall'altra parte del campo, arriva Portolussi con Cisco che va a attaccare Bonucci e porta a casa il calcio di Porezione... ...Schiavi per Cetta Ronaldo, c'è la MotoGP da Misano, 15-10, la Formula 1, minuto di gioco... ...Quadrado, raddoppio di Schiavi, Quadrado a cercare la palla sul secondo palo, c'è Alexandro... ...però non è riuscito a tenere vivo questo pallone, a terra, numero 21 del Novara Pagani, si gioca però, isolatissimo... ...e poi Novara che rischia, perde il pallone, McKennie cerca, Kuluzeski calcia, trovando la chiusura della difesa del Novara... ...alla fine Novara rimedia, si rifugia in rimesso, Kuluzeski spalla alla porta, Rabiot, la palla sul sinistro... ...non cerca il tiro, va a cercarlo con il destro, la palla si alza, sopra la traversa... ...un gol, ma Bellini... ...Alexandro, contatto in aria con Chiellini che è finito a terra, sostiene di essere stato trattenuto da Bellic, si chiariscono i due... ...l'arbitro fa... Ronaldo che va sul sinistro, prova a sfondare, raggiunge la linea di fondo, poi porta a casa il calcio d'angolo... ...sottolineare però ancora l'energia che sta dando... ...sul profondo in aria Ramsey, Ramsey contro l'Anni, non riesce a scavalcarlo... ...e poi allontana la difesa del Novara che ha rischiato però parecchio... ...alzando un po' le linee, serve McKennie, tocco di ritorno per Ronaldo... ...Ronaldo non si fa sorprendere l'Anni, ancora la Juve con Alexandro, palla deviata in rimessa laterale... ...è stato ancora... ...palla di ritorno per Ronaldo di quadrado, gira Ronaldo... ...Ronaldo da dietro arriva a sostegno dell'azione, recupera Schiavi... ...a spazio Ronaldo, uno sguardo verso la porta, la conclusione larga di Ronaldo... ...ha trovato l'angolino dentro l'area di rigore... ...alla ripresa del gioco, esce dal campo Ronaldo... ...dove con la scosta Pjanic, Ramsey, Pellegrini cerca il tiro con il destro... ...tiro che finisce molto lontano dalla porta... ...Pellegrini può crossare, la rimette... ...e la palla quasi sbuca sul secondo palo dove arrivava a quadrado dopo il tocco del portiere... ...si accentra, va ancora sul fondo Cisco, bravo a tenere... ...ha fatto vedere un'ottima giocata anche nel primo tempo conquistando la punizione dal limite... ...costringendo al fallo Bonucci... ...e Novara anche in... ...l'assist di Douglas Costa per Ramsey... ...che arriva con il tempo giusto sul secondo palo e sorprende Lanni... ...trova raddoppio la Juve, grande assist di Douglas Costa... ...e Ramsey che un paio di occasioni abbiamo avuto anche nel corso del primo tempo... ...raddoppia per la Juve, eccolo qui... ...bellissimo l'assist di Douglas Costa... ...Douglas Costa... ...dopo l'assist prova a segnare lui... ...altra bella giocata... ...questo potrebbe essere... ...Ramsey controllo, possibilità di tiro di Ramsey che invece prova a restituire... ...terza al secondo tempo rispetto alle scelte iniziali... ...intanto ti dico che praticamente tutti i giorni varano... ...Cisco al limite rientra e calcia... ...non riesce a centrare lo specchio della porta di... ...Gigi Buffo... ...difficoltà nella ripartenza contro il pressing... ...la palla arriva a Piazza... ...doppio tentativo e alla fine il pallone entra per il terzo gol della Juve... ...ha segnato Marco Piazza... ...che ci stava provando da qualche minuto con grande voglia e grande determinazione... ...tiro ribattuto e poi ribadito in rete dal croato... ...3 a 3 da De Sciglio... ...adesso González... ...Buzzegoli con il sinistro... ...Aversari si gira... ...va con il sinistro a cercare la porta... ...Cura al limite... ...va sul destro... ...poi scarica per Portanova... ...e calcia di potenza ma senza la necessaria... ...Ciglio... ...Cergamer ancora su Piazza... ...senta palla dentro l'area di rigore... ...qui la palla arriva sul lato di Portanova... ...che riesce a trovare il gol del 4 a 0... ...buon movimento in area... ...per Manolo Portanova... ...classe 2000... ...va a segno... ...quarto gol della Juve... ...so Pellegrini... ...Pellegrini prova a sfondare... ...arriva sul fondo... ...ancora Pellegrini... ...la palla per Nicolussi... ...e poi la deviazione... ...sotto porta... ...ancora Portanova... ...si è trovato sulla traiettoria del pallone... ...calciato da Nicolussi Caviglia... ...due gol nel recupero... ...per Portanova... ...rivediamo l'azione... ...per proprio sentire le parole... ...di Pirlo... ...e le sue considerazioni... ...su questa partita... ...e sulla stagione... ...che sta per iniziare...